L'umanista Leonardo Bruni fu ospite a Rimini di Carlo Malatesta insieme al pontefice Gregorio XII a inizio 400. È l'autore della vita di Dante, qui trascritta in un codice cartaceo della metà del secolo XV, appartenuto al nobile riminese Daniele Felici Capello, poi acquistato dal Cardinal Giuseppe Garampi e lasciato per testamento alla biblioteca.